Andrea Giambruno rompe il silenzio, le sue prime parole dopo la separazione da Giorgia Meloni. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Rimani fino all'ultimo, perché abbiamo una domanda per te. Lo shock svelato, Andrea Giambruno parla dopo il grande scandalo che ha scosso il suo mondo amoroso. La storia d'amore decennale con Giorgia Meloni giunge al termine. Cosa è successo? La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha messo fine a una relazione che ha durato quasi un decennio, ringraziando Giambruno per gli anni straordinari trascorsi insieme. Ma cosa ha portato a questa improvvisa rottura? Tutto è iniziato con i video sconvolgenti trasmessi da Striscia la Notizia, i famigerati fuori onda che hanno mandato il giornalista in una spirale di terrore. Ogni sua parola sembra essere diventata oggetto di mistero. Il conduttore, ex compagno di Giorgia Meloni, è stato il protagonista delle ultime due puntate del famoso TG satirico di Antonio Ricci. E ora, finalmente, Andrea Giambruno decide di rompere il silenzio. L'occasione? Un convegno a Pavia, dove Giambruno si è sfogato con il microfono acceso insieme all'assessora al turismo della regione Lombardia, Barbara Mazzali. Cosa avrà detto Andrea Giambruno? Cosa ci aspetta in questa sorprendente rivelazione? I commenti sono aperti e la curiosità è alle stelle! Ti ringraziamo per aver guardato questo video, ti invitiamo a lasciare un mi piace e ad iscriverti al nostro canale.